Buongiorno, allora oggi vi faccio vedere lo svuota spesa. Sono appena tornata dal mercato e oltre al mercato ho fatto anche un giro alla Conad perché mi servivano delle cose che non ho trovato al mercato. Adesso vi faccio vedere. Al mercato ho speso 8 euro e alla Conad 10 euro. Adesso vi faccio vedere. Allora, le cose che sono nelle busse le ho comprate alla Conad. Ho comprato delle Fuji, sono 6 Fuji, le ho pagate 4,18 euro, quindi è un chilo e 6. Poi ho comprato questi funghi, noi le chiamiamo le cardarelle, però il loro nome è vero, vedete qua? Pleurotus, vabbè, noi le chiamiamo le cardarelle, 1,19 euro. E io le faccio a cotoletta, le preparo a cotoletta. Poi ho comprato queste mele, no, queste mele, scusate, queste arance, sempre alla Conad, che sono delle arance non trattate. E le ho pagate 1,13 euro, centesimi ed è un chilo e 4. Sono buonissime, sono piccole, però sono dolcissime. E poi ho comprato anche questi dolcetti che erano in offerta a 1 euro, sono delle cassagnole a Roma. Poi al mercato invece, allora ho comprato queste melanzane, siccome erano un poco toccate davanti, la signora me le ha fatte pagare a 50 centesimi. Io nei prossimi giorni faccio due o tre ricette e le utilizzerò velocemente, 50 centesimi al chilo. Poi ho comprato le zucchine, ho comprato i peperoni e ho comprato questo broccolo grande, questo broccolo, vedete? Ecco qua, che io utilizzerò, oltre alle cime, utilizzerò anche il gambo e le foglie, perché non si butta via niente. E quindi ho speso in tutto 19 euro. Insomma, oddio, a parte le melanzane e le arance che erano veramente in offerta, il resto ha un bel prezzo.